A San Paolo di Ghesi, in provincia di Ancuna, nella splendida Valesina, il 13, 14 e 15 ottobre, Festa Videvisciola, tracannata dal carro gratis, ingresso libero, servizio Busnavetta, Festa della Visciola su Facebook e sito internet festadelvidevisciola.it. A San Paolo di Ghesi, un appuntamento da non perdere, Festa del Videvisciola, 13, 14 e 15 ottobre, San Paolo di Ghesi, con la tracannata dal carro gratis.